Il difetto più grande di Windows è che man mano che passa il tempo diventa sempre più lento. Magari questo succede per gli aggiornamenti o perché installate troppi software e poi non li disinstallate o perché non formattate da tempo, insomma i motivi sono vari. Ma in questo video vi mostro come velocizzare Windows, sia Windows 10 che Windows 11 perché il tutorial è valido per entrambi i sistemi operativi. Ma prima vi invito a iscrivervi al canale per supportare il canale e soprattutto per non perdervi altri video come questo. Dopo la sigla, il tutorial. Iniziamo dalla prima dritta che è abbastanza semplice. Andiamo su Start e digitiamo App in Background. Clicchiamoci sopra. Qui è possibile disattivare le app che lavorano in background e che purtroppo occupano risorse. Quindi o le disattiviamo una per una o quelle che non ci interessano oppure possiamo disattivarle tutte. In questo modo. Basta andare in alto. Ed ecco, disattivate tutte le app che lavorano in background. Seconda dritta. Dalla tastiera del computer digitiamo contemporaneamente i tasti Win ed R. Si aprirà la finestra esegui. Al suo interno dobbiamo digitare questo. Power CFG.cpl E diamo l'invio. Si aprirà questa finestra. Troverete selezionato bilanciato. Questo significa che il computer gestisce tutte le sue risorse cercando di risparmiare energia. Voi dovrete selezionare prestazioni eccellenti. In questo modo il sistema spremerà di più le risorse del computer e sarà più veloce. Terza dritta. Digitate Ottimizza visualizzazione nel menu. Si aprirà questa finestra e qui. Io la tengo già disattivata. Dovete selezionare. Disattiva tutte le animazioni non necessarie. E diamo l'ok. Analizza sempre questa sezione. Poi le selezioniamo qui e qui. Quarta dritta. Dal menu Digitate Sistema. Clicchiamoci sopra. Andiamo a destra su Impostazioni di Sistema avanzate. Ora andiamo su Impostazioni. Queste sono una serie di animazioni e di effetti che rallentano la fluidità del sistema e soprattutto se avete un computer che ha 7-8 anni vi consiglio di disattivarle. Andate su OK per applicarle. Prossima dritta. Andate su Start e Digitate Impostazioni di archiviazione. Cliccateci sopra. Qui dovete attivare. Io l'ho già attivata. questa funzione che sarebbe il sensore di memoria che permette di liberare automaticamente lo spazio sul disco eliminando i file non necessari. Altra dritta. Digitate Win ed R. A suo interno digiterete Prefect. Date l'ok. Si aprirà l'interno di questa cartella che sono dei file temporanei che potete eliminare tutti. Eliminateli. Se rimane qualche file non vi preoccupate potete eliminarli che ne so tra un mesetto. Ecco infatti a me sono rimasti due file. Però non ci interessa. Andiamo avanti. Sempre Win ed R dalla tastiera. Questa volta digitiamo Temp. Anche qui troviamo altri file temporanei. Selezionateli tutti. Canch. Eliminiamo. Ok. Anche qui sono rimasti due file e non ci interessa. Li elimineremo la prossima volta. Prendiamo di nuovo Win ed R. Qui stavolta dobbiamo digitare MS Config. Ora qui dobbiamo spostarci su avvio apri gestione attività e qui dobbiamo disattivare una serie di applicazioni che partono insieme al sistema operativo che rallentano l'avvio del sistema. Ad esempio Adobe Reader ci vado sopra con il pulsante destro e vado su disabilità e faccio questo con tutti i servizi che partono automaticamente. pulsante destro o disabilità. Poi per chi è interessato e ha la volontà troverete altri tutorial alla fine di questo video che vi permettono di velocizzare il sistema. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Per non perdervi nuovi tutorial non dimenticate di iscrivervi e di lasciare un like. Al prossimo video! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!